La Luvo Barattoli Arzano costretta a iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile allenandosi nella villa comunale cittadina. Triste ripresa per le ragazze vincenti del volley arzanese, le numero uno dell'intera provincia napoletana. Palestre e palazzetti rigorosamente chiusi, commissari prefettizi impegnati chissà dove ed il presidente Raffaele Episcopo costretto a portare la squadra nell'unico spazio aperto. L'unico modo per denunciare a chiare lettere l'ennesimo disservizio che impedisce di praticare sport nelle strutture, non solo alla squadra di pallavolo ma soprattutto ai bambini e alle bambine arzanesi impegnati ogni anno nelle diverse discipline. Anche a loro non resta che la villa o, peggio ancora, la strada. Un'azione che si spera scuota le coscienze di chi attualmente sostituisce l'amministrazione comunale, come spiega lo stesso presidente dell'Arzano Volley, Raffaele Episcopo. Come potete vedere siamo nella villa comunale di Arzano per gli allenamenti dell'Arzano Volley. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora ricevuto notizie per quanto riguarda le autorizzazioni per entrare nelle strutture sportive di Arzano, vale a dire le palestre e il palazzetto e quindi siamo costretti ad allenarci qua in villa sperando che il tempo ci aiuti ancora per qualche giorno perché spero che nei prossimi giorni avremo la triade si riunisca e ci dia le autorizzazioni necessarie per entrare. Non manca nulla alle strutture perché le strutture ormai come tutti sappiamo l'anno scorso sono state tutte quante messe a norma, vale a dire la vecchia giunta ha fatto un lavoro con i vigili del fuoco per ottenere tutte le certificazioni necessarie affinché si possa fare sport in queste strutture. Le società hanno tutte quante assolte gli obblighi che dovevano assolvere, manca soltanto la firma dei commissari sulle autorizzazioni.